Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Buongiorno a tutti, siamo con Fabio Aquilini, responsabile dell'Italia del rispetto Ecco, durante lo scorso mese, il mese di ottobre, sappiamo che il movimento ha organizzato dei banchetti in piazza Duomo, ovviamente a Voghera, per distribuire una serie di volantini sui quali era riportato il vostro principale messaggio degli ultimi mesi ovvero la vostra convinzione che i cittadini si ritroveranno con l'inizio del nuovo anno alle urne con il portafoglio sicuramente più leggero a causa dei costi con i quali bisognerà sostenere questo ballottaggio che ormai sta per arrivare So che questo volantinaggio però voleva essere anche un modo per confrontarsi con i cittadini ma nel concreto quanti volantini avete distribuito, con quante persone avete parlato? Sì, buongiorno Dunque, noi abbiamo distribuito 1200 volantini Giustamente come detto, la nostra intenzione era quella anche di, con molta umiltà, di fare un piccolo sondaggio di quale fosse l'intenzione dei cittadini vogheresi Andranno a votare o non andranno a votare al ballottaggio? Allora, su questi 1200 volantini distribuiti singolarmente abbiamo posto a 1200 cittadini vogheresi questa domanda e solamente 400 hanno detto che andranno a votare Quindi un dato decisamente significativo? Credo che questo dato sia un dato che possa mettere il politico in una situazione di allarmismo perché comunque credo che sia un grosso segnale Infatti le motivazioni che sono uscite sono fondamentalmente tre Quali sono queste motivazioni? Sono emersi probabilmente dei dati altrettanto importanti? Sì, tre importanti sono tre Allora, il più importante è quello della sfiducia nei confronti della politica ma soprattutto dell'uomo politico perché la gente ci diceva noi continuiamo a parlare della politica ma in realtà la politica è un organo che è fondamentale e deve esistere ma quello che noi mettiamo in discussione è l'uomo politico come gestisce la politica e questa è una sfiducia La seconda invece era che ritenevano che il ballottaggio dopo due anni non avesse più senso quindi la maggior parte dei vogheresi credevano che fosse importante ritornare a un voto generale e la terza, secondo me altrettanto importante è questi continui liti tra i due candidati che invece di tranquillizzare i cittadini già preoccupati per la mancanza del lavoro e tutte quelle non speranze che non ci sono più aumenta la paura Ecco, accantonando momentaneamente la politica locale l'America ha scritto la storia con l'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti appunto Lei che ha un'esperienza ultraventennale nella politica a livello locale però che idea si è fatto di questa svolta che hanno intrapreso gli americani? Ma credo che sia esattamente quello che non solamente la politica ma credo a livello generale a livello della società oggi vincono vince l'uomo che è capace di porsi in un certo modo economicamente a volte con atteggiamenti sempre molto più espansivi io sono per invece un atteggiamento molto più moderato e molto più pacato e quindi dico non mi sta bene questo tipo di tentativo questo progresso che va verso questa strada qua non mi sta bene Grazie A voi, grazie a voi Grazie Grazie.